un saluto cari amiche e cari amici vi invito sempre a iscrivermi al mio canale youtube ad attivare la campanella mettere i vostri like ai miei video e non dimenticate mai di scaricare il link in descrizione la palla di pelle la prima palla di pelle della settimana oggi lunedì 10 giugno cominciamo con tutto sport rabbio juve conviene a tutti il francese non ha pronte offerte più elettanti il tecnico insiste perché firmi la succe la società potrebbe sfruttare ancora il decreto crescita il titolone di tutto sport però riguarda la nazionale impegnata sabato nel debutto e nel nel campionato europeo e si giocherà al westfalen stadion contro l'albania ultimo a ultima prova ieri ultimo provino battuta la bosnia euro gol frattesi azzurro speranza se le me cares è un affare da toro e io lo terrei però il milano darà via un italia mai vista la crippavola è la mezza maratona sette ori riecco max verstappen la ferrari è un pianto un disastro ieri alcaraz è re di parigi sinner numero uno l'italia cresce a piccoli passi decide ancora frattesi gol c'è margine avrei dovuto segnare un altro e la prima volta con questo modulo possiamo migliorare ancora dice frattesi donna ruma super buongiorno in venta fagioli si sacrifica fagioli sempre più dentro nel progetto di spalletti rabbio juve le tre verità ecco perché il rinnovo conviene a tutti l'abbiamo già detto i soldi grazie al decreto crescita la spinta di motta e la mancanza di alternative al giocatore tra la juve calafiori c'è di mezzo la grana basilea perché perché il club svizzero ha diritto al 50 per cento sulla cessione del difensore valore delle contropartite compreso ecco perché il bologna spara alto ronaldo chiama scesni e scesni e ora il polacco ci pensa c'è l'offerta araba per il numero uno dal al nasr wea mette le ali messaggio a motta poi andiamo valoli oggi toro oggi toro venezia cairo tempi maturi nuova offerta il venezia vuole un milione ha una clausola e il toro nicchia ad aglieli l'inter dice no a de rossi frattesi non si vende solo una proposta indecente intorno ai 45 milioni di euro che difficilmente arriverà potrebbe far vacillare il club nerazzurro intanto nuovi contatti con martinez il portiere del genoa pressi all'inglese però l'obiettivo zirzei pronti 40 milioni della clausola londra continua il lavoro di moncada con la gente dell'olandese al fine di limare la pesante commissione di 15 milioni chi ha però un osso duro non sarà semplice a girare la richiesta le alternative restano ghimenez che è il preferito a girassi e david andiamo avanti il napoli non si arrende pressing su di lorenzo il napoli non vuol perdere di lorenzo forse domani un altro incontro tra il suo agente manna pronto a prolungare con meret in difesa si avvicina allo svincolato ermoso la lazio di baroni va su nostri nei cabal reti e ghi c'è la viola carrarese di marmo il titolo di tutto sport e in serie b dopo 76 anni non ce la fa il non ce la fa il vicenza di vecchi vediamo crippa e la mezza tutta azzurra sono felice non soltanto per me ma per tutta la squadra rinuncio ai 10.000 e salgo a Sistrier per preparare la maratona di parigi cioè maratona all'olimpiadi e quindi settima medaglia d'oro però attenzione due medaglie nella sera nella serata della tesuseanu e di dosso jet catalin negli 800 terzo negli 800 zina migliore in semifinale il primato dei 100 e poi è bronzo quindi una grande squadra quella diciamo che ha come presidente stefano mei non c'è soltanto jacobs l'italia corre nel futuro al cala alcaraz 3 anche parigi e sinner è nato il sinal prima c'era il fedal federez contro nadal adesso c'è il sinal sinner contro alcaraz zero titoli ma con un sogno tornare a vincere i giochi parliamo della paolini che con le rane non è riuscita a vincere la finale del doppio femminile nuvola rossa montri al ferrari un bagno di umiltà malissimo ieri la ferrari e passiamo adesso alla gazzetta dello sport parigi arriviamo parla della squadra di atletica buon viaggio italia parla della squadra italiana di calcio della nazionale cara rese nella storia l'abbiamo già detto alcarazza visa sinner italia avanti con l'euro è la parida dell'italia di ieri non è stata una parida molto brillante poco spettacolare solida se vogliamo però ovviamente oggi i quotidiani sono positivi con i loro giudizi spalletti e rilancio siamo ancora al 70 80 adesso serve più continuità insomma c'è giustamente un po di buonismo intorno a quest'italia che anche ieri ha fatto fatica andiamo a leggere i voti di fabio licari della gazzetta spalletti 6 e mezzo 7 e mezzo frattesi male di marco 5 secondo fabio licari 7 donna rumma 6 darmian 6 e mezzo buongiorno 6 e mezzo cala fiori 6 bellanova 5 e mezzo giorginio che non è piaciuto 6 fagioli 6 e mezzo cambiaso 6 chiesa 7 scamacca 6 cristante e 6 pellegrini il bomber alternativo potevo farne altri cresciamo insieme è frattesi che parla azzurri niente paura albania pericolosa ma superabili assuperabile aslani e ramadani i motori centrali vediamo grandi e ambiziose davanti le solite note francia la più completa anche se ieri ho visto un po di partita male contro il canada 0 a 0 tiago ufficiale metà settimana la juve aspetta ancora douglas luis motta va di fretta è l'ora di fonseca annuncio in arrivo sembra aspettando godò arriva arriva l'annuncio arriverà zirze milan promesse di gol da mercoledì l'annuncio invece mi han detto mercoledì no sarà da giovedì in avanti inizio di luglio non credo mi dicono difficile che venga a milanello prima dell'inizio di luglio e poi la prima amichevole è quella del 20 in austria l'ufficialità di paolo a breve joshua sorride il portoghese ha sempre fatto segnare i suoi numeri nove quindi queste le novità vi ho già detto che per quello che riguarda fasce da rebus florenzi in bilico seteo parte leggiamo questo articolo interessante di luca bianchin il milan si fa un gran parlare di fascia un curioso trille internazionale con bayern monaco e real madrid coinvolte coinvolte lo scenario previsto fino a un paio di mesi fa era chiaro il real prende alfonso davis con il germania arriva teo calma il futuro di davis resta sospeso e teo aspetta aspetta non è in discussione l'offerta lui del bayern un accordo preliminare sull'ingaggio in sostanza c'è già ma i rossi non hanno più fatto passi avanti con il milan se ne parlerà più avanti il milan per ora non parla nemmeno conteo per il rinnovo il rebus di fascia si completa con alessandro florenzi che a roma ha vissuto giorni difficili con paolo fonseca c'è il pericolo che sia la stesso film di gendusi contudo a roma con la lazio diciamo che la possibilità di restare sarebbero state più alte con altri allenatori florenzi è stata una riserva usata per 40 partite nell'ultimo milan da fermo calciava meglio di tutti fonseca il club parleranno presto presto anche di lui un addio è possibile io spero sempre nell'intelligenza delle persone e dimenticano il passato e pensano al futuro questo il mio commento vertici con l'inter verso la firma e mette nel mireno herrera e mancini il tecnico può diventare il più vincente della storia sul rinnovo il nodo durata conteggio a milla napoli e pazza del suo generale e oggi domani sarà in città l'atalanta ore li lancia a sangante per la difesa oscarsson da bomber il bologna d'italiano in attacchio piace pavlidis in mezza in mezzo idea vrancs che il minan conosce bene come brilla milinkovic numeri da record il portiere del toro è una garanzia la strategia fritkin roma everton gli stadi al centro dei progetti futuri mi riscatti o no se le mecker torna al milan udinese lucca verso il sì rebus gendusi è il leader della lazio con baroni ma la premier lo tenta ancora andiamo avanti si muovono le neopromosse parma l'attacco sono già nel mirino piena monte bonazzoli il como parte dal centrocampo sensi e bolloca i preferiti il venezia circa i suoi punti fermi totem po jampalo genoa torna l'idea miretti per dare più qualità alla 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 centrocampo tutti i contromessi cara rese nella storia attenzione finotto assegno dopo sei minuti per il venezia non c'è scampo l'italia va di corsa crippa super e brivido rima in mezzo una mezza d'oro e d'argento quindi ieman trionfa pietro e primo rischio la squalifica per il ciao a petro sembra che abbia salutato mentre supera un avversario parigi arrivare jacobs e l'italia però attenzione c'era la staffetta ma un problemino al polpaccio quindi non si sa se correrà jacobs e scendono le ovviamente le possibilità di medaglia della staffetta ferrare ritirate fra errori e guai chiudiamo ovviamente con qualche pagina del eccolo qua del corriere dello sport andiamo qua ecco e andiamo frattesi si va viva l'italia inter barella si da sei milioni e mezzo andiamo a leggere l'articolo sul milan parliamo ancora attenzione napoli osimen lukaku che intreccio il celsi è stato chiaro basta prestiti per lukaku dovete dare un bel 44 e quindi l'arsenal l'arsenal non spende 130 milioni per victor osimen roma under 17 elezione al milan e min ha preso 5 gol mi dispiace oltre che per le scuole sconfitta ma sarei andato a giovedì a vedere la partita di ritorno e sarebbe stato bello avanti con bellanova vuole il la roma mentre per quello che riguarda il milan il milan di fonseca attrazione anteriore quindi questo è il pezzo tra se le mer se le makers e cdk sono in ballo ben 35 milioni se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like iscrivetevi al canale youtube di carlo per legati attivate la campanella e scaricate il link in descrizione